Per il giornalista marchigiano Piero Luciani, accompagnato dalla moglie Giuliana e dalla figlia Cristina, il viaggio alla scoperta di quei luoghi che hanno dato i Natali al Rosso di San Secondo, Pirandello, Sciaccia e Camilleri, è cominciato proprio da Caltanissetta, perché mossi dalla passione per Leonardo Sciaccia. Accompagnati dall'assessore alla creatività e cultura Pasquale Tornatore, hanno fatto visita al sindaco Giovanni Rubolo, cogliendo l'occasione per fare un giro di Palazzo del Carmine e una visita al Teatro Comunale Regina Margherita. Visita guidata anche alla Biblioteca Comunale Luciano Scarabelli e alle chiese di Sant'Agata, San Sebastiano, Cattedrale e Santa Croce. Il giornalista Piero Luciani ha affermato che la Sicilia ha questo fascino, quello dei piccoli centri storici, ed anche per questo siamo partiti da Caltanissetta per fare il percorso della strada degli scrittori. Dal canto suo il sindaco Rubolo ha invece sottolineato l'importanza per la città di Caltanissetta di essere in rete con le altre città del centro Sicilia, perché in questo modo, ha detto, diventa più attrattiva per i visitatori.